Buonasera a tutti, grazie per esservi collegati anche durante la fase 3, noi siamo il Pug Romagna, siamo un Pug itinerante, ci incontriamo il primo martedì del mese, cerchiamo di coprire tutti i territori romagnoli, quindi ci siamo incontrati Cesena, Faenza, Ravenna, Rimini, siamo aperti a qualsiasi location, quando ce ne sarà la possibilità, intanto ci incontriamo online, questo è il nostro terzo evento online, oggi come speaker abbiamo Giuseppe Morelli che ci parlerà di GravCMS e vi ricordo che per proporre delle tematiche di cui o volete parlare o semplicemente sareste interessati a sentir parlare qualcun altro c'è il nostro github che si chiama appunto Pug Romagna dove fare le proposte e votare quelle già presenti, su meetup dove vi siete iscritti ci sono tutti gli aggiornamenti sui nostri incontri, sulle nostre attività e su linkedin, facebook e twitter ci trovate sempre come account Pug Romagna e tutti con tutti i nostri aggiornamenti e quelli del GRUSP che è il gruppo di cui facciamo parte. Questo incontro sarà registrato e registreremo solo la parte del talk non quella delle domande, quindi a fine del talk siete invitati a togliere il muto e partecipare al networking virtuale che faremo. Utilizzeremo Slido che è la piattaforma che abbiamo utilizzato nelle ultime volte per fare le domande e i sondaggi, ogni tanto vi pubblicherò il link in chat perché ai nuovi entrati la chat si disabilita quindi cerco di coinvolgervi tutti, adesso vedrete che online c'è il sondaggio di dove ci state seguendo, siete invitati a scrivere come sempre da casa e dal divano. Detto questo vi ricordo brevemente che abbiamo già organizzato l'evento per il prossimo mese quindi a luglio, il 7 luglio martedì parleremo di organizzazione del codice in progetti medio-grandi, lo speaker sarà Matteo Galacci e sempre Matteo Galacci sarà lo speaker della prossima settimana del Dev Romagna che è un gruppo diciamo gemello al nostro che parla di vari argomenti tra cui anche il PHP e proprio l'evento della prossima settimana sarà dedicato a PHP 7 quindi avete doppia dose per questo mese di PHP. Detto questo io direi che lascio la parola a Giuseppe, invito tutti, ma vedo che siete già senza la webcam quindi mi la disattivo solo io e per qualsiasi cosa potete utilizzare la chat di Zoom e per le domande mi raccomando su Slido. Grazie. Bene, grazie Nicole. Dunque mi presento, io sono Giuseppe Morelli, sono un freelance attuale sviluppatore Silius Shopware principalmente back-end e da un mesetto ho abbandonato il discorso sviluppo Magento. Poi dopo se volete fare un evento specifico su differenze Magento, Silius, come diceva Nicole potete aprire le issue sul repository del Pug Romagna e sono appassionato di Laravel e di DevOps non proprio nel senso come lavoro principale ma più come hobby. Di cosa parliamo oggi? Questo è l'indice di oggi. Parleremo di Grav CMS che è un flat file CMS e vedremo le principali caratteristiche rispetto ai CMS classici tipo WordPress, i CMS headless soprattutto nella parte back-end, un piccolo confronto con le PWA e il discorso se è meglio utilizzarlo, quando è meglio un flat file o una PWA e caratteristiche principali del CMS pro e contro. Iniziamo con le principali differenze. Ovviamente la caratteristica principale di un CMS flat file è di fatto che non c'è il database, quindi tutti i dati che vengono scritti non sono in un database ma sono in file organizzati in cartelle. Grav nello specifico è un flat file ma non è un static site generator, cioè ci sono dei CMS tipo Jekyll che di fatto compilano la pagina, quindi sono a tutti gli effetti dei siti statici, cioè sono quelli .html, non hanno parti dinamiche, se non con dei trick con il JavaScript. L'altra differenza principale è che non avendo il database, tu con il tuo repository puoi avere una versione di sviluppo locale senza fare nessun provisioning perché nello specifico utilizza un sistema tipo gli .env file di Symfony, insomma dei framework. Quindi questa è una cosa molto comoda soprattutto quando si lavora in team e per i ragazzi junior che non sanno bene magari come muoversi all'inizio e non c'è nessun problema che magari qualche dato venga inviato oppure problemi tipo cancellazione accessi in produzione perché è successo in qualche caso, molto rari ma purtroppo l'ho vissuto. Poi altre caratteristiche. Il discorso del database, soprattutto database MySQL fa sì che questo CMS sia molto molto più veloce perché di fatto con i server che sono tutti con dischi SSD, insomma dai anche un PC locale non ha più problemi il discorso deve leggere i file, con gli SSD si è tolta questa cosa. L'aggiunta poi soprattutto nella modalità production di cache come Redis, le cache del web server, quella di PHP e l'aggiunta di una CDN fa sì che la velocità poi la vediamo è molto molto più alta rispetto a WordPress. Qui la comparazione è più sul WordPress perché è quello più utilizzato per fare siti aziendali, landing page o blog. Una cosa che ho ritenuto importante e è uno dei motivi principali per cui sono passato a questo CMS e l'hacking. Io all'inizio avevo il mio blog con WordPress. WordPress è tempestato di bot che cercano di farti la login nell'admin, cercano di vederti i plugin, se sono bucati eccetera, SQL injection, cioè un sacco di cose. Questa cosa qui cioè il fatto di non avere il database esclude tutte le SQL injection e il fatto di avere tutti i dati su file e un unico punto d'ingresso che è la cartella, chiamiamola cartella pub come quelli per o public per i framework. È molto più difficile da creare, non impossibile, più difficile. Altra cosa, se voi mettete tutto il progetto sotto versioning, un eventuale attacco può essere ripristinato semplicemente con un git checkout perché non c'è un database dove magari ve lo possono cancellare. Sì, vi possono cancellare i file, ma se avete tutto sotto versioning, git checkout e tutti i dati ritornano al loro posto. Poi sicuramente bisogna fare qualche controllo, però ho visto che in realtà i bot non incidono sulla velocità e l'hacking è praticamente nullo. Sarà anche per il discorso ok, la piattaforma non è ancora così conosciuta in giro e utilizzata. Come dicevo prima, io per esempio utilizzo git e git lfs per avere un mio backup, quindi di fatto non dovete fare nemmeno un backup nel server perché la combinazione di questi due vi permette di mettere sotto versioning sia file di testo sia le immagini e avere a tutti gli effetti un backup. Risorse server, non c'è il database, l'unica parte che vi serve è il web server più PHP e non ne richiede moltissime perché una volta messo in cache, soprattutto se avete siti aziendali o blog, una volta messo in cache è molto molto rapido. Si può utilizzare una CDN tipo Cloudflare e aggiunta la CDN l'unico momento in cui deve rielaborare i dati e quando voi svuotate la cache. Un problema che ho notato è la differenza di ricerca dei dati nel sito. Ovviamente se c'è un database la ricerca è quella classica, solitamente full text. Dovendola fare in dei file, se non c'è un sistema esterno, tipo un elasticsearch, diventa un po' più complessa, un po' più lunga. Però ho notato che non è nemmeno così impossibile. E non ho ancora testato questa cosa. Se per caso il sito ha moltissime pagine, ci potrebbe essere un limite nelle cartelle. Cioè il fatto di dover salvare tutti i dati in file, l'unico limite che abbiamo al momento è il file system. Ora, un file system Linux tipo l'ext4 non è che è al limite di 100 file, però ad oggi non so quale potrebbe essere il limite. Teoricamente è il limite del file system. In pratica non esiste ad oggi un sito con magari 2000 pagine, 3000 pagine o se c'è, insomma non hanno avuto problemi. Differenze invece con gli headless. Per chi non lo sapesse, un CMS headless è un CMS diviso in due. Una parte che gestisce i dati, che è la parte back-end, e una parte che gestisce il front-end. Quindi chi gestisce i dati è quello che salva tutto il contenuto, eccetera, e solitamente espone i dati tramite API. Il front-end è di fatto un template statico, che fa delle chiamate all'API e poi le espone nel sito. Qui l'unica differenza che si può fare è con la parte back-end, ovviamente. Grav CMS non nasce con le API, quindi di fatto non lo possiamo paragonare a un back-end di un CMS headless. Si può aggiungere tramite dei plug-in, però non nasce per quello, proprio perché ha il suo sistema di templating che è strettamente agganciato ai dati. Quindi non ha quella filosofia di, ok, c'è il dato, lo espongo tramite API, poi dopo un sistema di templating si aggancia. E perlomeno la versione attuale, la 1.6, 1.7, non è stata prevista. Forse lo aggiungeranno nella versione 2, ma non sono sicuro, questo ancora non lo so. L'unica modalità per esporre i dati è solo tramite dei feed, che non è nient'altro che leggono i dati dalle cartelle, lo espongono, ma questa è l'unica differenza principale. Gli headless, soprattutto la parte back-end, hanno il loro sistema di admin, dove creano queste entità e le espongono via API. Un CMS flat file, nello specifico Grav, ha il sistema di templating troppo integrato al momento con i dati e quindi non riesce a fare un'esposizione tramite API. La differenza invece con le PWA, le PWA intendo un CMS headless completo, quindi back-end e front-end, ammettiamo di avere un sito, tipo come il mio blog, e un altro sito, un altro blog, con il back-end, ad esempio ci sono molti che si chiamano directus, get cockpit, i front-end possono essere Vue.js, il reat, gets by, insomma ce ne sono tanti. Ammettendo di avere un sito in PWA completo, quindi back-end più front-end, le differenze sostanziali sono quelle che ci potrebbero essere in un CMS classico, quindi anche WordPress. Non c'è una modalità sincrona, quindi i dati nel flat file sono inviati in modo sincrono, invece le PWA no. Il rendering ovviamente è molto più lento, per quanto possa essere più lento, insomma si trattano magari di decimi di secondo, ma per Google sono fondamentali. Le PWA ovviamente sono più veloci perché praticamente di fatto è tutto JavaScript. e non c'è la modalità offline, cioè se non c'è internet il sito, il flat file CMS non funziona. Nelle PWA invece c'è questa modalità, con il discorso modalità sincrona più storage, quindi se per caso c'è un'interruzione di connessione, il sito continua ad esserci. Detto questo, uno potrebbe dire, ok, effettivamente le PWA sono il futuro, allora tutti facciamo quella lì, cioè che stiamo a fare? Lasciamo perdere sia WordPress, lasciamo perdere anche iGrav, facciamo le PWA. C'è una cosa fondamentale da prendere in considerazione, mettere in piedi un CMS PWA richiede un setup del back-end, un setup del front-end e solitamente un middleware. Il middleware va insieme, solitamente va a coppia con il front-end, e è quello che ci permette di fare il routing delle pagine, cioè quando creiamo delle pagine tipo chi siamo, contattaci, eccetera, ovviamente vengono create dal back-end, ma il front-end, quando il sistema di routing chiama questa pagina, deve riconoscere questi indirizzi e solitamente lo fa un middleware che potrebbe essere Node.js, cioè il middleware chiama il back-end per dire ok, esiste questa pagina? Sì, no, e quindi dà eventualmente un 404. Di fatto per avere una PWA ci sono tre elementi, sono due ma nel dettaglio solitamente sono tre. Il livello di esperienza, di seniority per le PWA è molto alto. Io dubito che ad oggi chi prima faceva i template con Wordpress, oggi sappia fare bene i template con Vue.js, ad esempio. Cioè, è sempre un po' più difficile. E poi, vabbè, c'è il discorso, ok, le PWA sono più veloci, io voglio quelle perché così Google mi premia. E uno dice, va bene, vi faccio vedere le prossime slide e vediamo se magari uno può cambiare idea. Deve sempre contestualizzare, cioè bisogna sempre vedere la tipologia di progetto. Ok, questo è il mio PageSpeed Desktop a maggio, quando ho iniziato a scrivere le slide. E che succedeva? A fine maggio c'è stato un update, quindi questo qui è da prendere da pre-update senza aver fatto, senza avere le PWA, quindi con un flat file, si può benissimo raggiungere PageSpeed 100. Se lo provate, il mobile ovviamente ha un testing più basso, perché? Perché analizzando i miei dati statistici, l'80% arriva da desktop, quindi l'ho ottimizzato di meno. Qui vi faccio vedere più o meno quali sono i valori che uno controlla del PageSpeed e di fatto la velocità è solo una parte, quindi il discorso che la PWA, sì, è un veloce lato tecnologico, chiamiamolo, è un punto a favore, ma non è solo quello. Quindi il discorso è, contestualizzando, uno dice ok, il PWA è più veloce, ma il flat file può arrivare allo stesso livello. Adesso ci arrivo un attimo alla spiegazione. Giugno, prima di giugno Google fa un update. Update adesso non so come si chiama. PageSpeed declassato. Uno dice, ho fatto niente, non ho modificato nulla nel template, perché? Andiamo a vedere. Introducono due nuove opzioni, l'LCP e variazione layout, che ancora non ho studiato bene perché è uscito adesso. Quindi il discorso è, la velocità al lato tecnico rimane uguale, vengo penalizzato per due cose. Queste due cose sono prettamente legate al templating, cioè a come ho organizzato il contenuto, non né alla piattaforma né al server, perché le altre rimangono invariate. Faccio l'aggiornamento in base a come, alle linee guida, ecco che risale. Non ho aggiornato ancora questa parte qui perché era da, insomma, devo studiare meglio, poi anche lì io faccio sviluppatore back-end, non sono un esperto SEO, però basta leggere le linee guida e uno capisce un po' dov'è il problema. Dov'era il problema principale? Per farvi capire, torno un attimo indietro, a maggio era così, sempre con un flat file. Tutto, diciamo, perfetto. A giugno c'è, diciamo, piccola penalizzazione, controllo il motivo, faccio un aggiornamento, ecco che ritorna a valori alti. Il motivo principale era questo qua, cioè, nelle nuove aggiornamenti, banneroni granti con back-end, vengono penalizzati, togliendo il background e diminuendo, ecco che il punteggio torna a 95. Lato server, lato tecnologia, io non ho cambiato niente. Ecco che se per caso, cioè, il livello del team non è altissimo, cioè, non ho uno sviluppatore front-end, senior, esperto di Vue.js, ecco che le PWA, di fatto, per alcune tipologie di progetti, non servono. Cioè, è inutile che mi dicano, no, mettiamo le PWA, arrivi a 100. Questa cosa qui ci arrivano anche, molto spesso, con i WordPress ottimizzati. Però quanta ottimizzazione ci serve dietro perché c'è tutto il sistema dei plugin, c'è tutto il sistema dei database. Questa modalità qui, fatta da uno sviluppatore back-end, non ho avuto grossi problemi, cioè, c'è anche questa cosa qua da tenere in considerazione. Quindi, cosa importante, il page speed che serve, che tutti cercano, tutti il lato marketing, SEO, dicono, no, controlliamo il page speed perché se è basso, vuoi, il sito non ha accessi, non è strettamente legato alla velocità del server e alla tecnologia. Ad oggi, quindi giugno 2020, il fattore è sì, in parte, la velocità, ma in parte anche come fate questo template. Cioè, per assurdo, se prendete un template HTML fatto male e lo riportate in PWA, la velocità sarà altissima, ma il page speed sarà basso perché l'avete scritto, cioè l'avete fatto senza una logica. Se io metto 10 banner grandi e lo faccio in PWA, ecco che il page speed vi dà 20, 10, perché è fatto male. Qui, ecco, parlo dell'ultimo aggiornamento che è stato fatto e, in questo caso, come detto, le PWA non risolvono il problema. Quindi, come spesso, diciamo, l'informatica dipende sempre dalla situazione e non c'è mai una soluzione adatta a tutti. Valutare sempre caso per caso. Che ora abbiamo fatto? Principali caratteristiche. Dunque, Grav è basato principalmente sulle librerie di Symfony. Non è stato creato partendo dal framework Symfony. Ha preso le X librerie e si sono costruiti loro il proprio core. Detto questo, uno può, se ha delle conoscenze delle librerie principali di Symfony, si trova benissimo, insomma, conosce, può destreggiarsi bene nella gestione di questo CMS. Come sistema di templating abbiamo Twig. I contenuti delle pagine, quindi proprio il testo, eccetera, può essere scritto o in Markdown oppure in HTML classico. Il layout delle pagine è modulare. Adesso poi vi faccio vedere cosa vuol dire modulare. E per chi magari è, diciamo, uno sviluppatore e-commerce come Magento, più o meno il sistema si somiglia con il fatto di avere dei blocchi. Magento, ad esempio, ha NXML, qui invece è configurabile tramite cartelle e file. Adesso vi faccio vedere più o meno com'è lo schema delle pagine. Di fatto, partendo da una base, tu puoi decidere, vabbè, c'è sempre il header e il footer, che solitamente vengono sempre inserite nelle pagine. Il contenuto lo posso suddividere in blocchi, che lui chiama moduli. Queste parti qui, non è che il nome, questi nomi qui, possono essere a vostra discrezione. Non c'è il fatto che, no, questo si deve chiamare showcase, questo callout, no. Questi si possono chiamare come volete. L'importante, che poi adesso vediamo, la corrispondenza fra i nomi e il template. Qui c'è il callout, che sta qui, feature, qua sotto. Poi vediamo adesso anche come vengono fatti, anzi lo vediamo più tardi, come vengono fatti l'ordinamento e come vengono creati. Caratteristiche importanti che mi hanno fatto innamorare di questo CMS. Uno è il supporto nativo della multilingua. La cosa che ancora non ho capito perché WordPress forse, non lo so, ci stanno lavorando, in realtà l'hanno già fatto ma non l'ho visto, è che per fare un multilingua devi mettere un plugin. Qui te lo danno nativo, è già nativo, uno può scegliersi la lingua, ci sono già alcune traduzioni fatte e c'è solo da fare una piccola configurazione. L'altra cosa molto importante che credo derivi più dal sistema di Twig è il fatto di poter scegliere per ogni pagina e per ogni lingua un template differente. Che vuol dire? Se io ho un sito, voglio che, non lo so, voglio creare una landing page temporanea, tipo slash offerta. Questa slash offerta deve avere un template diverso sia in italiano che in inglese, totalmente diverso proprio da tutto l'altro, dal sito, lo posso fare. Quindi ogni singola pagina, in qualsiasi lingua, può avere un template differente. Questo è molto comodo senza grandi stravolgimenti. Questo è molto comodo, come dicevo, quando vi arriva le richieste molto spesso assurde dei geni del marketing, non so, qualcuno magari mi ucciderà per queste cose. Però arrivano molto spesso richieste, tipo, ok, dobbiamo fare la pagina offerta, però deve avere queste caratteristiche. Quindi, che ne so, un header diverso, no, togli l'header, togli il footer, no, cambiamo colori. Fare questa cosa qui su determinati CMS è veramente una fatica. Cioè, una faticaccia assurda. Questo, qualsiasi pagina vuoi fare, puoi prendere un template nuovo e rifarlo. Lo vuoi fare in differenti lingue? Ok, lo puoi fare. In più, nei template, questo credo sia più di Symfony, ma non ne sono certo, se è lo stesso, puoi fare dei dizionari. Quindi tu nel tuo template puoi mettere delle costanti che possono essere tradotte nelle varie lingue. Così il template lo rendi unico per tutte le lingue, il testo viene tradotto con questi dizionari. Altra cosa importante, dai, che può essere lato sviluppo, è il discorso che le pagine I301 e I302 li puoi fare da file di configurazione. I file di configurazione sono tutti dei file YAML e quindi fare un I301 non è detto che si debba fare con l'HTaccess, ma lo puoi fare direttamente dal file di configurazione di BGRAV. Cosa molto comoda, perché molto spesso se magari qualcuno utilizza Nginx, qualcuno utilizza Apache, in base a quello uno deve scegliere anche come fare questi I301 e I302. In questo modo, qualsiasi sia il web server, uno può fare il redirect e il sistema di routing interno fa la rotta giusta. Caratteristiche invece un po' più tecniche è, allora, come Dependency Injecture, come Container c'è Pimple, Pimple, sì, Pimple, se dobbiamo pronunciare, e, vabbè, questa è proprio puramente tecnica per chi magari vuole saperlo, ha una CLI per i vari comandi, tra cui un BIN GPM, che è il loro sistema di packaging per i plugin, quindi se uno vuole installare i plugin, c'è sì un'interfaccia, ma c'è anche una riga di comando tipo, non è proprio il Compose and Install, ma similare. Per gli eventi si utilizza il Symfony Event, quindi se uno vuole mettere degli observer, lo puoi fare tramite gli eventi di Symfony. Vi dico, se avete siti aziendali o blog, di questo forse utilizzereste, sia no, quello per installare i plugin. Il resto, le personalizzazioni, insomma, per gli eventi, oppure, ecco, Dependency Injecture, sono modifiche veramente spinte e non servono quasi mai. O al massimo uno le mette nei plugin esterni, ma io personalmente ho mai usato nei siti che ho creato. Struttura delle cartelle, insomma, del progetto, poi magari vediamo anche gli screenshot, così rende meglio l'idea. Tutti i dati, diciamo, il contenuto del sito è in una sottocartella user. Le pagine, cioè le URL, chiamiamoli dai controller, sono nella cartella user pages. Il contenuto delle pagine viene fatto tramite file markdown, cioè devono essere .md. e non è detto che lì dentro ci debba essere per forza markdown, può essere anche in HTML, però i file devono finire, devono avere l'estensione .md. Per il loro sistema di templating, il .md deve avere lo stesso nome del .twig, in modo tale che quella pagina lì, quel contenuto lì, venga renderizzato con quel template twig. e adesso poi vediamo un esempio. Questo è lo schema del mio blog. Come vedete, questa parte qua, .local, indica che tutto ciò che è in questa sottocartella viene letto quando io ho il sito impostato in locale, cioè nel mio pc ho il dominio .local, quindi tutte le impostazioni di base che sono sotto config vengono sovrascritte da queste che sono qui. È quello che vi dicevo del fatto di avere il multiambiente già configurato direttamente nel codice e quindi non c'è bisogno di fare un provisioning. Basta mettere qua sotto la cartella user tutti i domini che avete di sviluppo, che non so, .test, .local, eccetera, e lui lo legge in automatico in base alla URL. Poi se andiamo sotto pagina, ecco, questo qui 01, sì, 01, 20, 40, sono tutte le URL. Sotto quello che fa Fede è questo qua, questo modulartitle.it.md che è il template principale. Da questo vengono presi tutti i pezzetti che abbiamo visto prima, ma poi nella slide successiva la vediamo, per fare, per montare tutta la pagina. Il .it, .en è per differenziare per la lingua, quindi per fare multilingua, diciamo, per tradurre la pagina nell'altra lingua basta prendere lo stesso file e mettere il suffisso. Ovviamente se c'è il multilingua attivo bisogna metterlo sempre .it e .n se è monolingua i tn non servono. Prende la diciamo la lingua principale basta mettere solo .md. Qui è lo schema per cui sotto template ecco questo purtroppo non c'è introdotto nella slide ma questa sulla destra è la sezione del template non è proprio scritto benissimo perché è un po' in italiano un po' in inglese ma essendo il blog personale l'ho fatto così anche per vari test come vi dicevo prima ogni file dove c'è il contenuto deve avere un corrispettivo nei template quindi se io ho una parte scritta in breve .md qua devo ritrovare in breve .html .twig che è quello che gli darà di fatto il rendering stessa cosa per il scorso modular title che è qua sotto se andate se conoscete un po' di twig e in generale andiamo a aprire questa pagina qui c'è al suo interno un extend che legge la cartella modular quindi se trova uno di questi qui allora lo renderizza ma è il twig classico quindi c'è un file base che poi oppure c'è questo file che estende il base quindi c'è l'header e footer nel caso poi vediamo meglio con il codice effettivo però per farvi capire che per ogni file di contenuti deve esserci uno del templating qui vi faccio vedere lo schema questo è l'home page il fatto che vi dicevo prima ok io c'ho bottom after body call out eccetera e sono tutte le sezioni queste sezioni possono essere anche riutilizzate in altre pagine se ad esempio magari vi fate un giro nel sito vedrete che la parte di in basso dove c'è il contact me è ripetuta varie volte e non è che io la riscrivo sempre basta solo che nelle altre pagine inserisca questa parte qui get connected e basta qui vi faccio vedere lo schema per cui questi blocchi qui possono essere letti o in base a come sono organizzate nelle cartelle quindi posso scrivere 010203 quindi lui li legge in ordine alfabetico oppure gli do io un ordine guarda mettimi per primo questa cartella qui secondo terzo quarto c'è un loro sistema diciamo per impostare questa cosa qui la guida è molto completa sotto questo aspetto e non è nemmeno così complessa da capire ok comunque questo dei template magari ve lo faccio vedere meglio con il codice sotto mano così magari si riesce a capire un po' meglio passiamo a diciamo le ultime cose fra i pro e i contro per utilizzare GravCMS sicuramente un pro è il fatto che non servono moltissime risorse io personalmente faccio girare vabbè che il mio sito non è che ha miliardi di accessi però gira su un server dove ha mezzo giga di RAM si e no un giga di RAM e dentro c'è PHP e Nginx e basta ma il carico è veramente poco cioè è anche sovradimensionata importante lo ripeto non è un static side generator cioè questa cosa qui non lo potete caricare tipo nel GitHub Pages perché è dinamico serve il PHP come diciamo come motore dietro non crea file .html un Jekyll vi creerebbe file html e voi li potete caricare in GitHub Pages GitLab Metrify insomma questi sistemi qui qui no abbiamo bisogno diciamo del web server del PHP un'altra cosa che ho trovato facile da sviluppatore back-end è il fatto che io se prendo una demo html un template html di quelli già già fatti che posso trovare diciamo sui siti a pochi dollari lo posso importare senza grossi problemi un po' perché il sistema di Twig è facile di per sé un po' perché anche il sistema che ha Grav è rapidissimo io ho l'header e il footer li posso includere in due template Twig e tutto il resto lo spezzetto in base a quello che voglio io la configurazione tramite YAML file è veramente rapida e sono sì c'è un sacco di opzioni ma voi potete scegliere solo quelle che vi servono altra cosa importante è che nel giro di due tre anni sono cresciuti sia i plug-in sia i temi cioè ci sono all'incirca se voi andate sul sito 320 plug-in tutti gratuiti e anche i temi circa 110 più o meno si somigliano un po' tutti però la somma di tutto è un diciamo per me è un buon risultato per essere un CMS nato proprio da zero nel 2016 se non erro e l'altra cosa è che sono gratuiti quindi c'è il plug-in quello per Google Analytics quello per le sitemap quello per i feed per il motore di ricerca c'è un sacco di roba e uno se vuole c'è anche il template gratuito da cui partire contro i contro questa per alcuni clienti magari più esigenti è che l'editor che c'è al suo interno del plug-in per l'amministrazione non ha molte feature perché quell'editor è nato per il markdown quindi c'è il grassetto inserisce un'immagine listing cioè i tag OL insomma per intenderci non ha molte c'è un po' scarno ancora quindi se uno vuole l'editor hyper completo come quello di WordPress ad oggi purtroppo non c'è il template più che altro il layout può essere modificato solo da codice cioè non tanto come posizionare i blocchi ma proprio modificare la struttura voglio fare un nuovo template un nuovo layout dove per esempio il footer non c'è lo posso fare solo da codice in alcuni casi ad esempio col visual composer di WordPress voi potete fare modifiche ancora un po' più spinte personalmente l'ho messo come control per me è anche un pro cioè il cliente non dovrebbe arrivare a modificare anche il layout il layout lo deve modificare uno sviluppatore cioè in questo caso un frontend la creazione di plugin l'ho trovata un po' difficile in alcuni casi ma non ma magari perché io non sono così esperto in Symfony allora magari ho trovato dei problemi forse chi ha basi di Symfony 3 4 secondo me non dovrebbe avere grossi problemi e qui l'ho ripetuto non è un un sito generato quindi ha bisogno del web server quindi in questo caso qui non lo potete pubblicare tipo in Netlify quello lì per esempio è gratuito GitHub Pages è gratuito e qui purtroppo lo dovete mettere in un server che fate fatica a trovare gratis ecco vi lascio qui alcune referenze del sito il sito ufficiale la chat non è su Slack ma è su Discord al momento siamo circa 2200 persone perché è su Discord perché Slack tutti piace Slack ma soprattutto per le community non lo possono mettere a pagamento perché costerebbe un sacco e lo storico sparisce Discord invece no ti tiene tutto lo storico ecco il perché si sono spostati lì inizialmente era su Slack anche loro hanno trovato dei problemi per cui la gente ripeteva sempre le stesse domande perché sparivano hanno detto no ok passiamo a Discord così c'è tutto lo storico inoltre vi permette di fare anche delle chat audio quindi se volete voi parlate direttamente con magari gli sviluppatori del core potete fare chiamate videochiamate direttamente nella chat e questa vabbè è roba un po' più nerd al momento ci sono 12.000 stelline questa ok dai più curiosità e le domande magari aspettiamo un attimino vi faccio vedere due cose così queste vengono registrate ve le faccio vedere qui direttamente nel progetto il discorso delle configurazioni cioè c'è un file tipo system YAML dove io posso impostare ecco le lingue il tema non page posso mettere l'area se qui ce ne sono quante ne volete adesso alcune le lascio di default altre le potete controllare nella guida e questo ecco per farvi capire che tutte le impostazioni sono tramite file YAML qui invece sono principalmente due file site e system quelli che controllano tutto il CMS nella site ecco questa parte qui è quella che vi dicevo dei 301 quindi i 301 voi li potete gestire direttamente da qui l'ultima cosa che volevo far vedere era questa parte qua per edizionari voi mettete la stringa questa stringa può essere messa o a livello globale o a livello template devo andare a finire ora vabbè io per esempio non ho messo le traduzioni quindi ecco qua languages questa vabbè è del template base io nel mio non ce l'ho però ci può essere anche qui un livello globale o un livello template delle traduzioni perché magari queste sono utilizzate anche nei plugin quindi in questo modo voi potete fare un dizionario questo è un italiano inglese e ok questo poi vabbè è lo schema delle pagine ad esempio la sottopagina blog questi sono tutti tutti i miei articoli anche qui il discorso limite del limite fisico che si può avere non saprei per il momento ad oggi non ho non ho avuto grossi problemi vabbè che sono anche pochi vi faccio vedere questo è il discorso frontend adesso questo è il locale c'è un plugin che fa l'admin che si presenta così nella versione 1.6 stanno lavorando nella versione 2 ma questa va un po' più a rilento perché effettivamente lo stanno un po' rivoluzionando configurazioni che non sono nient'altro quei due file system e site come vedete da qui che sono quei file che vi dicevo quindi se volete potete farlo anche da qui il discorso ecco lo vedi 301 se no lo potete fare da file io sono un po' più vecchio stile faccio tutto da file però se avete un progetto insomma c'è un cliente che non vuole cioè non può intervenire nel codice lo può fare direttamente da qui sezione dei plugin che potete installare anche direttamente da qua temi vabbè questo temi classico funziona un po' anche come era quello di wordpress pagine ecco come si presenta il discorso delle pagine del layout il come creare una pagina effettivamente è un po' più complesso per chi ha le prime armi perché spiegare a un cliente finale soprattutto oppure i copywriter di dire ok dovete fare prima una cartella prima una pagina la pagina deve essere di un modello poi fatta la pagina bisogna fare una sottopagina modulare potrebbe essere un problema per carità però questo dà più flessibilità in alcuni casi in altri non lo so ci sono pro e contro ecco io personalmente ancora se sono soprattutto landing page o siti statici siti aziendali piccolini fatte quelle pagine le persone non è che vanno a creare altri contenuti al massimo li modificano cioè io lovo il contenuto ok vado nel contenuto ecco qui l'editor infatti sono poche cose modifico il contenuto e basta si può comunque in ogni caso personalizzare ad oggi stanno lavorando anche su questo ho visto la nuova versione dovrebbe essere un po' più intuitiva e c'è anche una versione aggiornata anche di questo per poter mettere l'html qui ad oggi hai solo i tag di fatto del markdown però esiste anche un editor più avanzato per mettere proprio l'html il contenuto delle pagine ad esempio questa prendiamo dell'home page solitamente questa parte qui è di configurazione qui sotto ci va il contenuto effettivo potete aggiungere anche parti custom tipo questa cosa menù non è uno standard è una cosa che ho aggiunto io per poter fare i breadcrum dovrebbe essere questo è modular title questo qua vedete questa cosa qui page header breadcrum page header ok è lo standard di grab ma tutto questo che dopo sono queste parti che ho scritto io qui mettiamolo facciamo lo split dove andate a finire qua quindi page header è questa parte qua breadcrum è questa parte che ho scelto io qui potete scrivere pippo va bene lo stesso in questo modo io mi sono creato senza personalizzare nulla del cms un sistema per farmi i breadcrum nel sito questo invece va bene è uno standard loro per leggere tutte le sottocartelle e per fare il layout modulare e niente adesso secondo me possiamo passare alle domande Nicole scusa sì allora c'è qualche domanda su su la registrazione la vuoi interrompere? fermiamo la registrazione e passiamo alle domande se volete anche riattivare la webcam o togliere il mutuo sentitevi liberi ok